eccoci qua ciao ciao dunque ho dimenticato com'è fatta una stazione di servizio l'ultima volta ci sono stato un mese fa ragazzi dunque di cosa sto parlando oggi vedremo un po' velocemente quali sono i costi effettivi di carica e consumo quindi un po i costi di esercizio di un auto plug in hybrid e quindi nel suo utilizzo possibilmente nella stragrande maggioranza dei chilometri che percorriamo attraverso la il motore elettrico e quindi l'utilizzo della batteria la plug in hybrid per me è la soluzione ideale per i chilometri che percorro non sono tanti ogni giorno sono assolutamente all'interno di quella media statistica prevista da molti studi e cioè quella secondo cui la maggior parte delle persone percorre giornalmente sui 30 40 50 chilometri non di più noi siamo sempre assaliti da quella ansia di autonomia per cui diciamo beh ma questa auto può fare solo 50 chilometri 60 chilometri in pur elettrico è come se noi dovessimo percorrere ogni volta che saliamo in auto 400 chilometri tutti di fila è come se io dovesse andare ogni giorno da catania a roma va bene con la mia auto un percorso che io non faccio mai in auto e questo in un certo senso vale soprattutto quando andiamo a valutare eventualmente le auto elettriche a essere onesto con voi io ho valutato anche l'acquisto di un'auto elettrica prima di andare alla cupra formentor ibrida però ho pensato che insomma l'ibrido plug in potesse essere una via di mezzo un modo un po più morbido per avvicinarmi a questo mondo che mi incuriosisce quello della elettrificazione dell'auto è un modo per prendere dimestichezza con le ricariche i cavi le spine la guida elettrica che devo dire molto molto bella a me piace moltissimo guidare in elettrico la coppia istantanea il sì come dire l'assenza di rumorosità eccetera poi con la plug in hybrid è un attimo passare in ibrido e divertirsi con un classico motore termico allora il motivo per cui ho preso la pagina hybrid è proprio che questo cioè si sposa perfettamente col mio tipo di percorrenza chilometrica e stradale quando qualcuno consiglia o chiede consigli a proposito della plug in hybrid cioè faccio 10.000 chilometri l'anno faccio 20.000 chilometri l'anno eccetera e la consigliate oppure no io direi che al di là della quantità di chilometri è chiaro che se sono più di 20 25 mila l'anno probabilmente bisogna andare su un'altra motorizzazione ma più che questo o insieme a questo quello che veramente fa la differenza è il tipo di strada che si percorre perché 50 chilometri in autostrada per una batteria sono deleteri rispetto a 50 chilometri che si percorrono tra urbano ed extraurbano 50 chilometri di urbano sono quelli mentre 50 chilometri in autostrada e consumano la batteria molto più velocemente e quei 50 chilometri si rivelano essere molto pochi in autostrada non conviene naturalmente andare solo con l'elettrico e quindi già è una guida diversa rispetto al pur elettrico che consente la plug in hybrid quali sono i costi di esercizio di una plug in hybrid cioè quanto mi costa effettivamente guidare in elettrico ricaricando tutte le sere a casa e conviene rispetto alla benzina che io metto lì alla stazione di servizio beh facciamo due conti li ho fatti ma magari li avete fatti anche voi immagino molto dipende naturalmente dal costo dell'energia elettrica quindi questo è qualcosa da verificare in casa e ciascuno di voi in base al proprio contratto sapete che in questo momento siamo nel marzo 2022 naturalmente i costi di energia elettrica sono in grande risalita crisi energetiche crisi politiche e così via però io ho un contratto per esempio con tariffa bloccata due anni quindi insomma infatti ho ricevuto una bella email come diceva il prezzo del gas o il prezzo energia elettrica aumenta ma non per te questo mi ha fatto molto piacere la mia tariffa considerando gli oneri di servizio e tutto quanto si agire intorno ai 20 centesimi di euro per kilowattora quindi più o meno questa è la tariffa direi tradizionale che potete avere anche voi magari qualcuno di meno qualcuno di più ma consideriamo questa come una buona media di partenza almeno questo per la mia esperienza questo significa che una ricarica completa della batteria della cupra formentor che ricordo essere intorno ai 10 kilowattora va bene si aggira appunto sui 2 euro 20 centesimi a kilowattora ne devo ricaricare 10 sono 2 euro questo naturalmente se io ricarico tutta la batteria tutte le sere tutte le notti da l'uno per cento al cento cosa che per la mia esperienza non accade invece quasi mai perché io arrivo a casa con un 20 per cento a volte con un 30 con un 40 dipende naturalmente dall'utilizzo che faccio dell'auto e quindi in quel caso la ricarica è soltanto come dire un rabbocco di kilowattora e quindi una ricarica che invece costa magari un euro non tanto di più ma in ogni caso indipendentemente dalla da quanta ricarica faccio la sera la notte andiamo a vedere quanto mi costa il chilometro fatto in elettrico bene il consumo medio per una plug in hybrid è all'incirca di 6 chilometri per un kilowattora questo significa che se la batteria è circa di 10 kilowattora io riesco a percorrere circa 60 chilometri no in effetti questa è un po la media stimata nelle condizioni ideali di temperatura percorso bene che dovrei riuscire a fare con la batteria guidando in puro elettrico stiamo parlando di puro elettrico naturalmente se questi 60 chilometri li faccio in autostrada 130 chilometri orari non saranno mai 60 chilometri ma in un contesto urbano extraurbano io personalmente sono riuscito a fare anche 70 chilometri in solo elettrico in temperatura superiore ai 20 gradi ripeto anche questo che vedete in altri avete sentito probabilmente in altri miei video il range ideale di funzionamento per una batteria è tra i 20 gradi e i 30 gradi centigradi quindi quando c'è troppo troppo caldo quando c'è naturalmente freddo le performance delle batterie tendono a scendere progressivamente nel range ideale io sono riuscito a percorrere intorno ai 70 che quasi 70 chilometri bene la batteria quindi a 10 chilowattora di capienza diciamo così se io consumo circa 6 se riesco a percorrere 6 chilometri con un chilowattora o poco di più dipende anche dal percorso questo significa che siamo intorno a quella media di 60 65 chilometri quanto costa quindi percorrere un chilometro se io riesco a fare 6 chilometri con un chilowattora allora un chilometro mi costerà intorno ai tre centesimi di euro presto fatto il conto no facciamo due conti un chilowattora mi costa 20 centesimi con 20 centesimi io percorro circa 6 chilometri quindi un chilometro facendo la divisione significa che viene a costare intorno ai tre centesimi di euro naturalmente prendete questi conti sempre un po così in maniera approssimativa ma è una stima giusto per farsi un'idea per capire più o meno dove ci si trova andiamo a verificare quanto costa invece il chilometro con il carburante con la benzina in questo momento il costo della benzina come sapete molto alto in alcuni posti credo che sia già sui due euro al litro io riesco a fare rifornimento intorno all'ultima volta che l'ho fatto circa un mese fa intorno a un euro e 80 un euro e 78 insomma ma credo che sia aumentato ancora bene immaginando un euro e 80 al litro magari con una stima un po più favorevole alla benzina nei confronti dell'elettrico in questo momento io riesco a percorrere circa 15 chilometri con un litro naturalmente anche questa è una stima un po benevola il consumo è un consumo fatto utilizzando solo il motore termico quindi con batteria all'uno per cento in questo caso il consumo si attesta appunto intorno ai 14 15 chilometri anche qui diamo un qualche vantaggio al carburante vediamo un po come se la cava 15 chilometri con un litro significa che per fare circa 15 chilometri io spendo un euro e 80 probabilmente di più sia perché costa di più la benzina sia perché in realtà forse percorro qualcosina meno dei 15 chilometri ma prendiamo un euro e 80 come misura per 15 chilometri facendo anche lì una divisione e due conti arriviamo a verificare che al chilometro io spendo 12 centesimi di euro quindi un chilometro in termico un chilometro con la benzina mi costa 12 centesimi un chilometro con la batteria dell'auto mi costa tre poco più centesimi di euro vedete è un quarto della spesa che io effetto con la benzina quindi viaggiare in elettrico mi costa quattro volte meno e mi permette di evitare di andare al rifornimento continuamente e costantemente quindi facendo due conti si verifica subito qual è il vantaggio dell'elettrico si spende meno naturalmente questo è da verificare poi andando ad ammortizzare i costi di un'auto plug in hybrid che costa comunque di più a meno che voi non abbiate avuto accesso a degli incentivi come nel mio caso ma naturalmente bisogna fare questo tipo di conteggio complessivo ma andando solo sui costi dei chilometri che io riesco a percorrere con i due propellenti diciamo così per intenderci quindi la batteria l'energia elettrica e la benzina bene non c'è partita con la benzina io spendo 12 centesimi ogni chilometro che marcio con la mia che percorro con la mia auto con l'elettrico ne bastano tre tre e mezzo di centesimi quindi in realtà con 12 centesimi io riesco a percorrere non il chilometro che faccio con la benzina ma ben quattro chilometri quattro chilometri con quasi un kilowattora in realtà con un kilowattora ne percorro sei sei e mezzo quindi verificate subito che insomma quei grandi dubbi beh ma tanto costa di più forse l'elettrico beh ma tanto consuma di più l'elettrico beva tanto e con i costi siamo lì con lì beh direi di no io ho fatto questi due conti ma sono sarei ben contento di verificare eventualmente i vostri di conti nei commenti qui sotto nel video un'altra agevolazione che bisogna considerare che con la plug in hybrid per esempio in sicilia io non pago il bollo auto per tre anni e quindi un altro insomma sgravio in termini economici da considerare ovviamente rispetto a una motorizzazione tradizionale per la quale avrei dovuto pagare il bollo naturalmente in questi in questi tre anni fatemi sapere anche i vostri le vostre misurazioni i vostri conti per capire un po se la vostra esperienza è diversa questa è la mia esperienza e ripeto naturalmente considerate che si acquista una plug in hybrid per due motivi uno per viaggiare sempre con batteria carica non ha senso viaggiare con batteria scarica e due evitare di fare solo autostrada naturalmente perché lì state utilizzando un arnese non appropriato per il vostro scopo a quel punto un'altra motorizzazione un'altra auto sarebbe stata la scelta migliore ma se percorrete 30 40 50 60 chilometri di urbano extraurbano con un pezzettino di autostrada una statale un po più veloce eccetera non soltanto l'ibrido è perfetto ma addirittura potreste andare soltanto in elettrico che significa che veramente non vedrete la pompa di benzina per due tre quattro settimane ogni volta va bene spero che questo video sia stato utile sia così magari un bel mi piace magari iscrivetevi al canale che fa sempre bene alla prossima ciao ciao